Ma insomma, voi a chi va credere di sfrugurare, ma sapete che la femmina è buona, tengo coraggio per prendere la pacchera, tutta è dura. Maritemi è un nome serio, è quanta conferenza, maritemi è domiglia, è già da venne. Donna Conce, noi abbiamo creduto di scherzare. È già da venne, è già da venne. Ma sono mortificato, donna Conce, ma... È già da venne. Ma donna Conce... È già da venne! Eh ma... Ma che è stato? Ma te, ma noi stavamo scherzando. Non lo stiamo, non lo stiamo. 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 Non lo stiamo, non lo stiamo, non lo stiamo, non lo stiamo. Grazie mille Grazie mille Papa, ti piaceva signorine? Grazie mille